Il vice premier Luigi Di Maio insieme al capo della protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei comuni colpiti dalle alluvioni. Palermo si sblocca l'appalto del ferro di cavallo, arrivano 5 milioni e mezzo di euro contro gli allagamenti. Domenica prossima alle 19 alla Chiesa Maria Santissima Immacolata a Bagheria si terrà il concerto delle voci bianche della Fondazione Teatro Massimo. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di martedì 23 ottobre. Il vice premier Luigi Di Maio insieme al capo della protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica prossimi sarà in Sicilia per un sopralluogo nei comuni colpiti dalle alluvioni di questi giorni e in quelli danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Il governo è pronto a sbloccare immediatamente le somme necessarie a mettere in sicurezza i luoghi dopo una ricognizione e stima dei danni. Vediamo. L'incontro credo sia andato molto bene perché abbiamo preso tutti gli impegni partendo dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili edifici pubblici e nel weekend sarò giù con la protezione civile, con il capo della protezione civile per fare anche le stime dei danni per quanto riguarda gli edifici privati. C'è la massima volontà di dare una mano ai comuni colpiti da quel sisma e sempre nel weekend saremo in Sicilia per andare a fare un sopralluogo nelle aree colpite dall'alluvione, dal disastro e il dissesto idrogeologico che c'è stato in queste ore e che tuttora si sta verificando. Quindi massima vicinanza alla Sicilia, una terra che ha bisogno di tanta tanta vicinanza e tanto aiuto e ci saremo a partire la sabato e domenica come governo, ma ci siamo già perché da due settimane anche con Giancarlo Cancelleri stiamo lavorando insieme ai sindaci per ripristinare il prima possibile gli edifici colpiti. Grazie a te per la vicinanza alla Sicilia e soprattutto grazie anche ai sindaci che con grande spirito di collaborazione davvero hanno dismesso le casacche politiche di partito per indossare invece la casacca della comunità siciliana che oggi dopo questi due eventi calamitosi è davvero colpita ed è in difficoltà. Quindi grazie anche al governo che sta intervenendo in maniera perentoria, immediata. Questa cosa ci rende fieri di fare parte di un movimento che sta dando risposte davvero celeri e concrete. Primo dei tre giorni di protesta davanti Palazzo delle Aquile a Palermo per gli ex lavoratori licenziati circa sette anni fa da Max Living, Brico Arrigo e Grande Migliore. Una vertenza di difficile soluzione che si trascina da tempo. L'obiettivo degli ex lavoratori è l'inserimento in Resais, azienda partecipata della regione siciliana. Siamo sette anni senza lavoro per colpa delle varie ingiustizie che ci sono state dai sindacati, dai vari politici che ci hanno in questi anni solo non considerati. Adesso ci troviamo qui perché da maggio abbiamo fatto un incontro con il sindaco Orlando, dove lui in quella riunione si è alzato dicendo che andava a parlare con il presidente della regione Musumeci. Cosa che a tutt'oggi, dopo cinque mesi, non è mai arrivata una risposta. Pertanto siamo qui per chiedere nuovamente questo incontro che faccia una pressione al presidente della regione per poterci incontrare e vedere di risolvere questa nostra situazione che è diventata drammatica. Siamo lavoratori che ci definiamo Overanta e apparteniamo al gruppo Grande Migliore, Massi Living e Bricarrigo. Ci potrebbe essere il fatto che abbiamo lavorato in azienda con delle professionalità valide e dove in questi anni nessuno è intervenuto con tutte le aziende che hanno aperto a Palermo per poter inserire questi lavoratori che professionalmente erano validi. E ora tra poco ci sarà il reddito di cittadinanza, ci contate? Ma il reddito di cittadinanza non ci contiamo proprio perché il fatto del reddito di cittadinanza, sì, è un'agevolazione perché adesso non prendiamo niente magari per poter vivere ma sicuramente se come dicono ci troveranno una sistemazione dopo tre proposte è valida. Siamo rimasti in una trentina, quarantina perché ci siamo distaccati dagli altri perché non abbiamo avuto più appartenere a contatti con gli altri sindacati e ci siamo uniti al sindacato autonomo dell'OSB. Soprattutto con il nuovo governo regionale abbiamo avuto dei vari incontri con la dottoressa Manella Eppolito di cui lei si è presa a cuore questa situazione ma il problema sta tra regione e comune, sembra che il comune non porti avanti la nostra avvertenza perché da parte della regione c'è uno spiraio che il comune potrebbe aprire. Ci manca la legge per chi viene da licenziamenti da privato, nel pubblico c'è la legge, privato no, però negli anni passati Spatafora come la Keller sono stati assorbiti dalla regione, dal Resaisi. Ora per noi si crea tutto questo problema e noi vogliamo spingere anche questa situazione. Chiediamo l'ingresso in Resaisi pure noi. Vertenza part-time, precari di poste italiane, delegazione di lavoratori domani al Ministero dell'Economia e della Finanza. In programma anche incontri con delegazioni parlamentari, richiesto un incontro con la D di poste italiane. Continua la battaglia dei lavoratori siciliani part-time e precari di poste italiane. Dopo mesi di dure proteste e centinaia di cancellazioni pervenute ai sindacati di categoria, secondo i lavoratori, re di avere sottoscritto un accordo troppo penalizzante per la Sicilia, la situazione adesso sembra essere giunta ad una svolta. Una delegazione del comitato full-time subito per i lavoratori postali siciliani è stata infatti convocata per domani al Ministero dell'Economia e della Finanza che detiene la proprietà della maggioranza del capitale sociale di poste italiane S.P.A. Durante l'incontro la delegazione presenterà un dossier dettagliato sul caso siciliano e chiederà al sottosegretario l'impegno concreto per individuare, d'intento con l'azienda, provvedimenti rapidi e interventi risolutivi. A fronte di oltre 800 lavoratori part-time ed alcune centinaia di precari, l'azienda aveva infatti previsto, nell'accordo sottoscritto nel giugno scorso, soltanto 38 conversioni in full-time e zero stabilizzazioni su tutto il territorio regionale, numeri inaccettabili per i lavoratori siciliani che hanno deciso di protestare. Qualche mese fa abbiamo costituito questo comitato perché animati da grande speranze e da tanta voglia di riscatto. Abbiamo voluto portare avanti una battaglia di giustizia contro un accordo troppo penalizzante per i lavoratori siciliani. Questo quanto si legge in una nota diffusa dal comitato. La convocazione al Ministero è il segnale tangibile della bontà della nostra battaglia e delle nostre richieste. Non chiediamo corsie preferenziali, si legge ancora, o vantaggi, ma semplicemente un trattamento parimenti dignitoso a quello riservato ad altre regioni. Da tanti anni ci ritroviamo a dare il meglio per la nostra azienda ed è per noi inaccettabile che in una regione come la nostra i numeri siano così esigui e si continui a dire che il personale postale risulti in esubero. Non possiamo nemmeno accettare che l'azienda cerchi all'esterno 500 giovani laureati prima di valorizzare le tantissime risorse interne in possesso degli stessi requisiti ricercati altrove. Chiediamo anche un confronto con l'azienda e siamo pronti a collaborare al fine di dare una svolta nel più breve tempo possibile a questa annosa e seria vicenda. Per questo, approfittando della nostra visita a Roma, abbiamo chiesto ufficialmente un incontro all'amministratore delegato di poste italiane del Fante e alla governanza aziendale. Speriamo di essere ricevuti anche da loro. Durante la trasferta nella capitale, la rappresentanza di lavoratori siciliani incontrerà anche alcune delegazioni di parlamentari cui esporrà la problematica consegnando un dossier sulla vicenda. Gli operai forestali siciliani hanno un nuovo contratto integrativo regionale. Il governo musumeci ha ratificato infatti l'intesa siglata ad agosto, dopo tre mesi di confronto dagli assessori al territorio Totocordaro e all'agricoltura e di bandiera con i rappresentanti sindacali del settore. Vediamo. Nuovo contratto integrativo per gli operai forestali siciliani a 17 anni dall'ultimo rinnovo. Il governo musumeci ha ratificato l'intesa siglata ad agosto dopo tre mesi di confronto tra gli assessori al territorio Totocordaro e all'agricoltura e di bandiera con i rappresentanti sindacali di settore. Con l'approvazione della giunta regionale, il nuovo contratto entra nella fase operativa. Avrà la validità di tre anni e prevede un aumento di 85 euro al mese con decorrenza dall'1 settembre. La copertura finanziaria necessaria era già stata assicurata per il 2018 dalla legge di stabilità e per il prossimo biennio dalla riduzione delle spese dovuta a pensionamenti di diversi operai. La tutela del territorio e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale evidenzia il presidente della regione nello musumeci sono tra i punti programmatici del mio governo. È un settore che merita grande attenzione e che presto sarà al centro di una riforma continua musumeci con l'obiettivo di rendere centrale e strategica l'attività del corpo forestale della regione. Ringrazio gli assessori Cordaro e Bandiera, conclude, per il lavoro fatto in questi mesi e per l'importante risultato raggiunto. Giovedì prossimo è previsto un secondo sgombero in via Savagnone a Palermo per liberare le abitazioni in cui sono rimasti gli ultimi 13 nuclei familiari. Le famiglie sostenute dal Sunia e il sindacato degli inquilini hanno lanciato un appello al sindaco e al prefetto per bloccare il provvedimento di sgombero. Ancora uno sgombero in via Savagnone a Palermo, dove il 10 ottobre scorso sono stati aggrediti Stefania Petix e il cameraman di Striscia la Notizia, che si erano recati lì per fare un servizio su alcuni edifici comunali occupati dagli abusivi. Previsto per giovedì prossimo un secondo sgombero per liberare le abitazioni in cui sono rimasti gli ultimi 13 nuclei familiari. Dopo il primo intervento, avvenuto la settimana scorsa proprio nell'edificio in cui si è verificata l'aggressione. Dopo un video in cui alcune famiglie chiedevano scusa per l'accaduto e un aiuto al sindaco di Palermo, gli abusivi si sono rivolti al Sunia, sindacato degli inquilini, che ha deciso di sostenere la loro causa. È stato lanciato un nuovo appello al sindaco e al prefetto per bloccare il provvedimento di sgombero, in quanto tra gli occupanti, fa sapere il Sunia, ci sono anche 27 minori, due donne in gravidanza e due con disabilità. Chiediamo di avviare una trattativa con il comune e con la prefettura, ha detto Zahir Darwish, segretario del Sunia di Palermo. Le famiglie sono disponibili a regolarizzare la loro posizione, assicura Darwish. Dal confronto possono emergere le soluzioni migliori per garantire loro il diritto alla casa. Palermo si sblocca l'appalto del ferro di cavallo, arrivano 5 milioni e mezzo di euro contro gli allagamenti. Via Libera dall'Aggiunta regionale esulta Musumeci, Orlando, esempio di collaborazione istituzionale. La bonifica e messa in sicurezza del canale ferro di cavallo a Palermo non sarà più una chimera. Abbiamo risolto un problema che si trascinava da moltissimo tempo e a causa del quale ogni pioggia più persistente, le borgate di Mondello, Partanna e Pallavicino si trasformavano in veri laghi artificiali con enormi rischi per la popolazione. Lo annuncia il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, a seguito della decisione della Giunta di Governo, che dopo le relazioni degli assessori Gaetano Armao e Toto Cordaro, ha deliberato la rimodulazione dell'intervento, trasferendo le risorse del Patto per il Sud, pari a 5 milioni e mezzo di euro, alla struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dallo stesso governatore. I lavori, bloccati a causa di un'errata imputazione delle somme, prevedono la pulizia e lo svuotamento del canale da detriti e rifiuti, che non permettono il regolare deflusso delle acque causando così frequenti allagamenti. Già nei prossimi giorni gli uffici della struttura commissariale, coordinati da Maurizio Croce, acquisiranno tutta la documentazione e se il progetto esecutivo redatto dal Comune di Palermo non avrà bisogno di aggiornamenti, potrà essere indetta subito la gara d'appalto. Finalmente si sblocca un appalto che è rimasto fermo per troppi anni, del quale il Comune e l'Amapp hanno curato la progettazione e la direzione dei lavori, oltre che un cofinanziamento, ma di cui la quota parte di finanziamento regionale, era rimasta impigliata. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, commentando il provvedimento dell'Aggiunta regionale. I cittadini di Palermo e delle sue borgate marinare, prosegue Orlando, hanno pagato un prezzo altissimo in termini economici e di disagi e con essi il Comune. Confidiamo adesso nella celerità della ripresa della procedura di avvio dei lavori. Per quanto ci riguarda, tanto da parte politica che da parte della struttura tecnica che ha curato la progettazione, sarà sempre massimo l'impegno e la disponibilità alla collaborazione istituzionale perché si arrivi presto alla soluzione definitiva dei problemi legati alla mancata realizzazione di quest'opera. Per l'assessore Arcuri si sblocca un'annosa questione, un'importante opera di salvaguardia del territorio che andrà ad incidere in modo diretto e positivo sul fenomeno degli allagamenti a Mondello e Partanna. Certamente una notizia positiva a frutto del dialogo con la struttura regionale. I carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno arrestato a Palermo Francesco Vitale, 40 anni, rapinatore seriale, ben tre le rapine consumate nel giro di pochi giorni. Gli obiettivi spaziavano da istituti bancari ad uffici postali e supermercati. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di San Lorenzo, dopo un'articolata indagina, hanno arrestato a Palermo Francesco Vitale, 40 anni, già noto per via dei suoi precedenti specifici come autore di ben tre rapine consumate nel giro di pochissimi giorni. Gli obiettivi di Vitale spaziavano da istituti bancari ad uffici postali e non potevano certo mancare i supermercati. Così, dal 10 al 13 di settembre, i carabinieri hanno documentato le responsabilità in tre rapine consumate dal solitario rapinatore. Il 10 settembre, in via Eugenio Lemiro, è entrato nell'Istituto Monte dei Paschi di Siena e dopo aver afferrato il cassiere per un braccio, ha tentato di portare via il denaro dalle casse, non riuscendo però nell'intento solo per la mancata apertura dei dispositivi. Subito dopo questo tentativo di rapina, l'uomo si è spostato in via San Lorenzo, nell'ufficio postale, dove, dopo aver immobilizzato la cassiera, è riuscito a portare via circa 760 euro. Pochi giorni dopo, il 13 settembre, è stata la volta di un supermercato, sempre di via Lemiro. Questa volta il bottino asportato, dopo minaccia alla cassiera, è stato di 220 euro. L'attività investigativa condotta dai militari del nucleo operativo è stata intensa, nata da servizi antirapina svolti proprio per la prevenzione delle rapine. Una volta presentate le denunce e fornite le dettagliate descrizioni del rapinatore seriale, le indagini si sono concentrate su Vitale. Concorde con le risultanze prodotte dai carabinieri, l'autorità giudiziaria ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, notificata presso il Pagliarelli, dove l'uomo era già detenuto, sempre per altri colpi. Dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. Continui disagi e pericoli per gli automobilisti e i pedoni a Palermo a causa dei semafori, sincronizzati male in numerosi crocevia della città. Sono tantissimi crocevia della città i cui semafori non sono correttamente calibrati e tutto ciò provoca disagi alla viabilità stradale e pedonale. Le auto infatti sono spesso costrette ad accelerare pericolosamente pur di evitare un rosso infinito. E al tempo stesso i pedoni, che tra bambini e anziani, che non sono certo centometristi, devono imbattersi in una corsa contro il tempo per evitare di essere investiti. L'abbiamo visto oggi in un pratico esempio nell'incrocio tra Viale Campania e Viale Piemonte. Si ha paura pure a passare, perché il VED sta subito dopo alcuni secondi. E se le macchine passano ci sono incidenti, persone che si scansano. Abbiamo paura di questo semaforo. Qua ci sono delle scuole dove ci sono bambini, ci sono tre scuole qua. Eppure le case per anziani che ogni volta quando vengono le ambulanze devono attraversare, non ciò vuole il passaggio. Ci sono sempre problemi. Chi sale da Viale Lazio a pochie volte è già partito. Quindi secondo me c'è un problema di coordinamento tra i due semafori che stanno prima dell'incrocio con Viale Lazio. Chiaramente il semaforo rosso dura poco, quindi l'attraversamento dei bambini per noi è una sicurezza, deve essere una sicurezza. Essendo che dura poco, chiaramente non c'è il tempo che i bambini possano passare anche con il loro passo molto lento. Quindi dico, siccome la sicurezza per noi è abbastanza importante. Numerosi residenti e soprattutto i genitori di molti dei bambini che frequentano le scuole nelle zone limitrofe ci hanno segnalato delle vere e proprie anomalie sulle durate, sugli incastri, chiamiamoli così, delle tempistiche, dei semafori e quindi dei vari attraversamenti pedonali. Siamo venuti qui proprio per capire bene cosa stia succedendo. Effettivamente abbiamo rilevato numerose anomalie che creano non soltanto difficoltà nell'attraversamento ma anche ingorghi e quindi naturalmente numerosi incidenti. Per questo presenterò un'interrogazione con carattere d'urgenza per chiarire soprattutto insieme ai tecnici che sono sicuri come sempre saranno estremamente disponibili le condizioni di questi semafori cittadini per garantire quella sicurezza che diventa un bene prioritario assoluto per tutti i cittadini. Domenica prossima alle 19 alla Chiesa Maria Santissima Immacolata a Bageria si terrà il concerto delle Voci Bianche della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo nell'ambito della stagione concertistica Città di Bageria. Faremo un repertorio prevalentemente sacro però con ritmi diciamo abbastanza accattivanti. Infatti faremo oltre a pezzi tradizionali come Verdi, Le Laudi alla Vergine e anche Mendelssohn, Hebedine e Haugenauf faremo una messa di un compositore ungherese, Giorgio Orban molto divertente, così come altrettanto divertente spero lo sarà anche per il pubblico la piccola messa jazz di Bob Chilcott. Quanti elementi sono dentro questo coro? È difficile tenere il numero esatto nel senso che adesso abbiamo 16 ragazzi nuovi che sono entrati adesso proprio a giugno che si aggiungono a una quarantina di ragazzi che erano già facevano parte del coro delle Voci Bianche quindi per un totale di tra i 50 e i 60 ragazzi. Un momento fortunato per la musica classica sembra sia stata riscoperta dai giovani. Assolutamente e devo dire che il teatro in questo momento sta facendo tantissimo per i giovani, per i ragazzi tant'è vero che presto ci sarà una stagione con kids solamente ragazzi con un'orchestra che già è presente in teatro che già fa delle belle cose da soli ma assieme al coro dei ragazzi faremo una bella stagione. Se un bambino volesse avvicinarsi a questo coro come dovrebbe fare? Come ogni anno ci sono delle selezioni sempre più o meno nel mese di giugno più o meno si accede a questa selezione e poi i più bravi fanno parte del coro. I bambini ancora non si è bravi quali sono i criteri che voi seguite? È vero, ha ragione. Basta essere intonati e avere tanta tanta voglia di cantare insieme. Stasera evento di beneficenza presso il locale La Manita di Corso Calatafimi a Palermo per lanciare una raccolta fondi in favore dell'associazione Five Stars e dei bambini malati di leucemia. Bellissima iniziativa parte dall'associazione Bocca di Falco P3 e insieme a tanti amici anche a un mio carissimo amico Giulio Garufi e il suo gruppo di ballo stiamo mettendo tantissime persone in moto per dare questo contributo a questi bambini e lottare veramente a suon di musica, di ballo insomma a quello che viene dentro un sostegno per questi bambini. Vogliamo ringraziare anche la figlia che sta donando veramente tantissimo con i suoi amici del gruppo di ballo. Un'altra bellissima iniziativa parte che la collaborazione con una ragazza che proprio è testimone stasera di questo evento che viene direttamente da Napoli che è Cristina e darà veramente la testimonianza di questi bambini e di quello che faremo nel futuro anche insieme a questa associazione napoletana. Come si chiama l'associazione? Sì, l'associazione si chiama Five Star il presidente Cira Scialaibola e seguita anche dal suo marito il maestro Carmine Cagliazzo che voglio salutare tantissimo che veramente lotta tanto e fa tanto per questi bambini infatti faranno anche il 10 novembre un festival bellissimo e importante a Napoli. Stasera tanta musica e cos'altro? Stasera ci saranno tantissime persone che hanno creduto in questo progetto e che credono in questo progetto e che magari daremo un sostegno superiore a quello che le aspettative danno. Tanto ballo, tanto divertimento tante canzoni, tanta bella gente bella gente che ha creduto veramente in un progetto che non è Nicola Buscemi non è Palermo ma sono questi bambini che realmente hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto per curarsi. Vogliamo citare il nome di qualche artista che sarà presente stasera? Sì, stasera ci sarà Antonino Buscemi che direttamente da Mediaset sappiamo tutti e la sua performance che ha avuto a Io Canto e ci saranno altri cantanti ci sarà il vincitore di Anch'io Canto che abbiamo avuto anche ospite qui in televisione e tanti altri che facciamo magari così per sorpresa li lasciamo così li lasciamo in sostanza. Appuntamento a dove? Appuntamento alla Manita e Corso Calata Fimmi alle 20.30. Stasera una particolare testimonial da Napoli. Sì, buonasera colgo l'occasione per ringraziare l'associazione Bocca di Falco P3 del presidente Nicola Buscemi che mi ha dato l'occasione e il privilegio di contribuire ad aiutare questi bambini malati di leucemia regalando loro un sorriso al son di musica e per questo colgo l'occasione per mandare un bacio a tutti questi bellissimi bambini che appunto combattono e lottano per continuare a sorridere sempre insieme a noi. Una modella, anche una presentatrice che sarà presente il giorno del festival ad Acerra. Sì, infatti sarò lì come testimonial ma inoltre aiuterò la presentatrice quindi diciamo che presenterò anche un po' la serata insieme a lei. Musica, cibo e cultura tutto pronto per la Sagra della Castagna a mezzo iuso dal 26 al 28 ottobre. Numerosi visitatori attesi tanti appuntamenti da segnare in calendario tre giorni di manifestazioni che uniranno cibo e cultura. Sono dati che pesano quelli che caratterizzano la nuova edizione della Sagra della Castagna da mattina a notte fonda dal 26 al 28 ottobre a mezzo iuso in provincia di Palermo. La cittadina sarà divisa in aree tematiche dove il frutto autunnale per eccellenza diventerà fulcro e pretesto per conoscere i segreti e la bellezza del comune adagiato sulle pendici orientali della Rocca Busambra. Un percorso tra odori sapori e colori dove si sommano gli eventi serali che vedranno protagonisti senatori della musica italiana e la comicità made in Sicilia. Tanti gli appuntamenti da tenere in considerazione. Il 26 ottobre alle 17 apertura degli stand espositivi dove si potranno gustare le castagne e non solo. Seguiranno l'inaugurazione di mostre e l'apertura dell'area gourmet alle 22 in piazza Umberto I spettacolo di cabaret con Matranga e Minafo. Sabato 27 ottobre alle 10 apertura degli stand escursioni mountain bike visite guidate e animazione per bambini. Da evidenziare alle 22 lo show di Lello Analfino con i Tinturia e a mezzanotte il Silent Disco ovvero la discoteca silenziosa con le cuffie e i DJ. Domenica 29 ottobre alle 10 apertura degli stand escursioni spettacolo dei pupi e gare gastronomiche. Alle 15.30 a inizio il festival di tamburi classici e sbandieratori alle 20 concerto degli Irish Quartet. È tutto grazie per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione. Grazie a tutti.